Bitonto e finalmente, almeno ufficialmente e formalmente, le carte dicono che è covid free, cioè abbiamo zero contagiati, compresi coloro che erano a casa, come sapete, asintomatici, sono dichiarati guariti. Questa ovviamente è una notizia che non ci deve far dimenticare, le poche regole ormai rimaste per quanto riguarda il distanziamento fisico più che altro più che sociale. Dobbiamo sicuramente mantenere la barra dritta secondo quello che prevedono le disposizioni normative, ma sicuramente ci dà coraggio e soprattutto dà un senso a tutti i sacrifici che finora avete fatto e di cui io ovviamente non posso che ringraziarvi. Bitonto, Mariotto e Palombaio hanno risposto con grande maturità. Ad annunciarlo è il sindaco Michela Baticchio in una diretta in cui invita i cittadini a non abbassare la guardia e a comportarsi con prudenza, rispettando le norme sul distanziamento fisico per far sì che non tornino ad aumentare i contagi. Sicuramente ci saranno delle agevolazioni per le attività commerciali che sono state obbligate alla chiusura, ovviamente nei limiti delle risorse di un bilancio comunale, abbiamo voluto fortemente determinare, ipotizzare un segnale forte che possiamo rendere poi concreto a seguito dell'approvazione del bilancio che in tutti i comuni avverrà fine luglio. La diretta per il primo cittadino è anche l'occasione per annunciare la riapertura dell'area ludica della villa comunale. Finalmente possiamo riaprire anche l'area ludica della villa comunale con altre due risorse umane che sono dedicate alla villa. Devo dire che la chiusura della villa con alcuni ostacoli fisici e l'ingresso dedicato all'accesso dei diversamente abili ha eliminato tanti problemi di sicurezza di cui vi lamentavate, ci lamentavamo insieme io e insieme a voi ogni anno dovuti un po' all'inciviltà e all'utilizzo sconsiderato delle bici che sfrecciavano velocemente tra i passanti. Continueremo e aumenteremo anche l'orario rispetto a quello attuale fino ad arrivare alle ore 22. A concludere la diretta e l'aggiornamento sui lavori pubblici con l'elenco di alcuni appalti pubblicati o in procinto di essere pubblicati a partire da ripristino entro dieci giorni dalla viabilità bloccata a causa del cedimento stradale di Viaglilei. Tra gli interventi citati ci sono anche stadio, strade rurali, Lungolama, Torrione Angioino, ristrutturazioni della scuola Silos. Stiamo andando avanti anche con le procedure autorizzative per l'Italgas che porterà come sapete la conduttura del gas a Palombaio finalmente e che poi porterà a Mariotto, risultato che ci fa particolarmente piacere non solo per gli eseguenti delle frazioni ma per l'attenzione che storicamente non era mai stata data a questo territorio per quanto riguarda gli investimenti da parte della società che gestisce la rete del gas.